L'associazione musicale Animus Musicorum organizza la terza edizione del Calvello Music Contest. Sabato 4 e domenica 5 agosto esibizione dei gruppi Darden and the Catering, The Clay, Sea House, Litio, Red Fire, Domenico Seivestri. Partner ufficiali dell'evento Comune di Calvello e Girasole, energia leader delle energie rinnovabili in Basilicata, fotovoltaico, microeolico e cogenerazione. Inoltre il 5 agosto workshop dedicato ad energia e musica. Ami la musica? Allora non esitare, vieni a Calvello.